Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa la chiesa nella città. Questa settimana abbiamo due ospiti in presenza, uno è già con noi e lo presento quindi subito, è Don Tarcisio Bove, sacerdote diocesano, coordinatore del servizio regionale tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Benvenuto Don Bove. Buonasera a tutti. Ecco, l'occasione è quella di parlare, naturalmente lo avete capito, di questa realtà che è quella importante della tutela dei minori e voglio sottolineare anche degli adulti vulnerabili che forse talvolta non sono adeguatamente esplicitati nel concetto di tutela. E prendiamo spunto da un incontro che vi è stato a Roma il 17-18 novembre scorso, pochi giorni fa, nel quale per la prima volta si sono incontrati i referenti territoriali diocesani, interdiocesani e regionali. Appunto per vedere, per illustrare la situazione, per approfondire, per fare luce. Don Tarcisio Bove era fra i partecipanti a questo importante convegno e magari ce ne parlerà appunto per quanto riguarda soprattutto il suo rollo di coordinatore regionale. Ma diamo subito, diciamo, in apertura la notizia che è stata nominata, la nuova referente diocesana proprio per la tutela dei minori, che è psicologo, è docente e diciamo si avvale anche del lavoro dell'equipe, si tratta di Nicoletta Pirovano che vedete in questo momento nell'immagine e diciamo subentra a Livia Pomodoro che ha guidato questo ufficio dal 2019, quando è stato costituito. Bene, Don Tarcisio, diciamo subito che cos'è il coordinatore del servizio regionale. Sì, dunque il compito del servizio regionale tutela minori è quello di un coordinamento dei servizi delle diocesi lombarde. Cinque diocesi hanno organizzato un servizio proprio e altre cinque si sono aggregate insieme, le più piccole, con un servizio interdiocesano. Anche se la scelta fatta da ogni diocesi è stata quella di creare al proprio interno un servizio di ascolto autonomo, poi altri servizi in comune anche interdiocesani, ma questa necessità e questo bisogno, di un ascolto degli presunti abusi da parte dei singoli organismi diocesani mi pare interessante, perché è la volontà appunto di non perdere nulla di quanto può essere ricevuto proprio per un rispetto di quanti in modo presunto sono stati abusati prevalentemente nel passato. Certamente. Oltretutto ricordo che la nostra diocesi ha anche pubblicato delle linee guida in questo contesto che sono particolarmente interessanti e anche preziose. State vedendo appunto la copertina del volumetto Formazione e Prevenzione, che già dice molto di come la diocesi si avvicina e affronta questo problema. Certamente. È stato un momento importante questo di riflessione, tenuto conto anche del fatto di una recensione amplissima a livello nazionale e internazionale di altri documenti già elaborati, in modo tale da poter raccogliere tutto il prezioso che c'è stato di altri lavori e per formulare e compilare appunto questa mappa della formazione e prevenzione direttamente a servizio della diocesi di Milano. Eravamo all'inizio del 2019? Eravamo all'inizio del 2019. Proprio il 4 gennaio mi pare, proprio all'inizio dell'anno. Di fatto il punto di partenza è stato nel 2018, 20 agosto, la lettera di Papa Francesco a tutto il popolo di Dio. A proposito di quello che io avevo letto nell'occhiello dell'osservatore romano che presentava appunto questa lettera come una cultura dell'abuso. E devo dire che sono rimasto stupito perché di fatto la parola cultura per me ha evidentemente un'accezione positiva. Qui si trattava invece di un vulnus particolarmente severo, grave, tenuto conto del fatto che il Papa parlava di abuso di potere, abuso di coscienza, quindi abuso spirituale e abuso sessuale. È una concatenazione perché l'attenzione nostra evidentemente per la severità del tema va sull'abuso sessuale. Certo. Ma evidentemente questo parte da più lontano. Tra l'altro settimana scorsa erano qui con noi due operatrici di Caritas Ambrosiana per parlare di violenza sulle donne e ovviamente il primo tema è sempre quello della violenza di tipo sessuale, ma c'è tutta una gamma di violenze che vanno dalla violenza economica alla violenza indotta, alla violenza psicologica che ora sta emergendo sempre di più. Proprio penso perché c'è una tensione maggiore. Sì, sicuramente. Sicuramente c'è, credo anche, uno sguardo più fine nel vedere quali possono essere i passaggi che poi conducono anche in ambito ecclesiastico appunto all'abuso sessuale. Ecco, lei in un'intervista pubblicata su Milano 7, che è il dorso diocesano di avvenire di domenica scorsa, ma trovate l'intervista insieme ad altri contributi particolarmente significativi sul portale della diocesi www.chiesadimilano.it, dicevo, lei indica un dato molto interessante, come lo definisce, cioè che parlando di centri di ascolto, la denuncia all'autorità ecclesiastica è passata dal 53,1% nel 2021 al 18,1% nel 2022, mentre la richiesta di informazioni è schizzata dal 2021 36,4% all'anno successivo 81,9%. Cosa significa? Esatto, ma io ne ho fatto una lettura di questo genere, cioè il fatto che ci siano molte più persone che hanno iniziato a relazionarsi con i centri di ascolto. Questo significa che il centro di ascolto, nelle singole diocesi italiane, ha la caratteristica di acquistare conoscenza e fiducia da parte di chi appunto rileva situazioni di criticità e insieme con queste il fatto di avere un chiarimento proponendo appunto delle questioni e chiedendo informazioni. Allora, noi come centro regionale tutela minori, nel momento in cui abbiamo avviato il nostro lavoro, il primo capitolo anche stimolati dal servizio nazionale della conferenza episcopale italiana è stato quello di strutturare i centri di ascolto e quindi di fare un percorso anche formativo per le figure che sono dedicate all'ascolto, referenti nelle singole diocesi con una preparazione identificando la figura, le caratteristiche della figura, il luogo dell'ascolto, come deve avvenire l'ascolto. Cioè tutto è molto programmato, nulla è affidato al caso. Nulla è affidato al caso. Interessante il fatto che ci sia un aumento di richiesta di informazioni. Allora, questo significa per conto mio la necessità di un approfondimento e quindi di una preparazione a saper dare risposte nel momento in cui vengono richieste delle domande, degli approfondimenti che possono essere... Emergono degli interrogativi? Interrogativi, sicuramente. E la necessità è quella di saper dare risposte. Quindi non soltanto di selezionare le richieste di presunto abuso ma a volte anche di indirezzare ad altre realtà, anche al civile, penso ai consultori, anche nostri di carattere diocesano che abbiamo in tutte le diocesi. Ma questo vuol dire appunto attrezzare chi si dedica all'ascolto anche nella capacità di dare risposte. La rilevazione a livello nazionale, ed è interessante perché il nome rilevazione rispetto a Report che è stata la prima edizione, indica il fatto che noi trattiamo e abbiamo i dati appunto approfonditi dal Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica di Piacenza, i dati dei centri di ascolto, non sono tutti i dati dei presunti abusi in Italia. A partire da questo, ritornando ai centri di ascolto, la necessità di attrezzare le figure dediti all'ascolto per poter dare risposte anche qualitative, perché la nostra indagine che abbiamo tra mano è un'indagine di carattere quantitativo. Ma poter rilevare quali siano gli interrogativi che vengono posti ai centri di ascolto consente evidentemente di indirizzare, di chiarire, di orientare chi pone le domande. Tra l'altro abbiamo un grafico, ad esempio si evidenza benissimo quello che lei ha detto e le cifre che io ho dato poco fa in motivo del contatto e vediamo richiesta di informazioni, vedete la barra azzurra che indica 81,9 sotto il 36,4 che era il dato del 2021 e così le due percentuali per le denunce dell'autorità ecclesiastica. Se poi passiamo alla tabella che indica proprio il numero dei contatti ai centri di ascolto, ancora più evidente, 38 nel 2020, 374 nel 2022. Direi che anche graficamente non si può avere dubbi. Se poi passiamo ancora ad un altro grafico che è quello che attiene al numero delle presunte vittime, vediamo che è molto specificato ed è anche qui il grafico in azzurro indica un crescendo continuo e direi che è veramente significativo e dice dell'attenzione della Diocesi di Milano, delle Diocesi Lombarde, ma della Chiesa tutta insomma, questo fenomeno che purtroppo... Sì, di fatto è un po' sottaciuta questa voce appunto degli adulti vulnerabili, mentre appunto come si vede da questo grafico di fatto c'è un'emersione che sta venendo in luce, credo con una presa di coscienza, con una presa di coscienza rispetto al fatto che l'adulto vulnerabile va da una persona che in un momento particolare della sua vita, per fragilità che incontra, per eventi personali, familiari, si trova in una situazione di fragilità e quindi di maggiore esposizione, di abuso e io direi prima di tutto un abuso di coscienza. Ecco, dall'altra parte però c'è questa ulteriore categoria che è quella dei disabili che sono vulnerabili e inerti talvolta nella impossibilità di reagire di fronte a chi tende ad abusare di loro e della loro persona, del loro corpo. Per adulti vulnerabili intendiamo persone, lo avete visto nel grafico, delle presunte vittime over diciottenni, ossia che sono maggiorenni per lo Stato e diciamo nella mentalità comune sono forse ancora ragazzi, ma li definiamo adulti in quanto maggiorenni e quindi in una situazione molto diversa, capite bene, da bambini e adolescenti. Senta, per la sua esperienza, la situazione sta migliorando nel senso che c'è una maggiore presa di coscienza che c'è più, diciamo, attraverso tutti questi strumenti c'è una maggiore possibilità di intercettare casi dolorosi, casi limite o anche situazioni che magari quotidianamente si ripercuotono sulla vita di persone fragili. Credo che il percorso sarà lungo, il percorso sarà lungo perché di fatto, anche se, appunto, quello che si diceva nel convegno a Roma, se guardiamo a ciò che è stato messo in atto in Italia nel giro di pochissimo tempo, pensate che siamo partiti nel 2019, per dire, Diocesi Lombarde, nel febbraio 2020 ha fatto il primo incontro in plenaria, c'erano vicari generali, chiunque fosse interessato ad una partenza, non c'erano ancora centri di ascolto nelle diocesi, questo primo incontro in plenaria è stato l'avvio di quella che appunto a Roma è stata dichiarata come una, se fosse una start-up saremmo a livelli eccellenti, perché nel giro di pochissimo tempo, compresa la pandemia, siamo riusciti appunto a creare una struttura di ascolto, ma poi dico molto di più, non ne abbiamo parlato, ma di accompagnamento, di formazione, prevenzione, informazione, che è il capitolo successivo, ma per conto mio più importante, perché vuol dire appunto poter mettere delle basi certe per il futuro, nel momento in cui, negli ambienti educativi soprattutto, si possa mettere appunto una tutela attraverso una formazione che parte appunto dai presbiteri, ma poi transita anche a tutti gli operatori pastorali delle nostre comunità cristiane. Ovviamente allora buon lavoro, diciamo che anche in questo contesto triste, doloroso, ma si fa tanto bene, la diocese di Milano è, non a caso, all'avanguardia, un po' di orgoglio non manca mai, ma anche le diocesi lombarde nel loro complesso camminano bene, camminano insieme, credo che siamo un po' un esempio nel panorama italiano e forse anche europeo. Beh, non dovrei dirlo, però un po' ci è riconosciuto. Benissimo, grazie a Don Tracisio Bove, coordinatore del servizio regionale tutela per i minori e adulti vulnerabili. Grazie. Noi adesso ci lasciamo per qualche momento, ma torniamo tra pochissimo con un altro tema che ci sta a cuore come cristiani, ma non solo come persone. A tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi, cambio di ospite, è con noi un altro sacerdote diocesano, Don Mauro Santoro, benvenuto, che è responsabile della consulta diocesana, comunità cristiana e disabilità, un tema che è veramente molto caro all'Arcivesco, che ha voluto questa consulta, eravamo nel 2021 forse, e che spesso ne ricorda il valore. Parliamo con Don Mauro di disabilità in occasione di domenica 3 dicembre, che è la giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità. tante le occasioni per pensare e realizzare all'interno delle nostre comunità alcune proposte che coinvolgano le persone interessate a questioni di disabilità, anche durante le messe sono previsti degli atti di condivisione particolarmente significativi. Ecco, tutto questo si inserisce in un cammino, che è un cammino che abbiamo detto non parte da molto lontano, però cammina già con le sue gambe e bene. Come sta andando Don Mauro? Ma siamo proprio in cammino, è un cammino che ormai dura da diversi anni, abbiamo dato anche un titolo quest'anno per sintetizzare il cammino fatto, comunità crescono, perché questa attenzione alla disabilità non vuole più essere un'attenzione specifica, ma vuole essere un'attenzione di una comunità nei confronti di tutti, perché tutti possano sentirsi parte di una comunità e quando tutti si sentono parte di una comunità, la comunità cresce, il senso di comunità, come dire, si allarga. Per cui si tratta di una serie di iniziative, di attenzioni che stiamo ponendo continuamente, anche con bellissime collaborazioni all'interno della diocesi, con altri uffici odiocesani, proprio perché, inserindoci anche in quello che è un po' il cammino sinodale, vogliamo immaginare e sognare un modo di essere chiesa nuovo, diverso. Sicuramente, nessuno sa come sarà, ma sicuramente l'immagine che ci accompagna è che sia sempre più una chiesa, una comunità che accoglie tutti e valorizza tutti. Tra l'altro sono tante le iniziative pastorali per l'anno 2023-2024, le proposte proprie della consulta diocesana, ringrazio la regia, stiamo proprio vedendo la locandina di queste proposte. Dicevamo, domenica 3 dicembre, anche le messe, ho detto, anche le celebrazioni eucaristiche sono... Certo. Sappiamo che questa ricorrenza del 3 dicembre è dal 1981, appunto, che è stata indetta questa giornata da parte dell'ONU e quest'anno abbiamo voluto particolarmente valorizzarla perché cade di domenica. La domenica è il giorno in cui la comunità cristiana si ritrova soprattutto attorno all'eucaristia e allora abbiamo lanciato delle proposte in collaborazione con la FOM con cui c'è in atto veramente un grande lavoro insieme. Sì, mi ricordo nella piattaforma Ora mi formo c'è proprio un'attenzione specifica alla disabilità. E tutte queste serie di iniziative, di suggerimenti ovviamente sono aiuti che vogliamo offrire alla comunità per lanciare semplicemente un messaggio di sensibilizzazione. Sappiamo che queste giornate internazionali si stanno moltiplicando all'interno del nostro anno ma ovviamente non deve diventare una giornata finalizzata a se stessa, non avrebbe senso. Ma è una giornata dove lanciare sicuramente un messaggio e avviare dei processi lenti, magari a piccoli passi ma inesorabili dei processi che portino la comunità a sviluppare, a maturare uno sguardo diverso Inclusivo Inclusivo Dal noi e loro al noi tutti Come si intitolerà, perché le so tutte il convegno diocesano del 13 aprile Ecco, io ricordo il webinar eravamo in tempi di pandemia in cui appunto venne annunciata la consulta Si approfondirono i temi o tutti o nessuno Ecco, anche questo titolo è bello Esprime già quello che vogliamo dire con una consulta Non è un ufficio di curia in più, tanto per essere chiari È un tentativo di sviluppare cammini Magari anche inediti Certo, certo Sì, non è un ufficio in più ed è importante sapere questa cosa perché la consulta diocesana non organizza una pastorale alternativa per le persone disabili ma vuole, attivando appunto progetti, collaborazioni sensibilizzare quelli che sono gli uffici di pastorale ordinaria già presenti Servizio per la catechesi Servizio per la famiglia la FOM stessa, servizio appunto degli aspetti sociali Servizio per la salute Insomma, collaborare perché possa sempre di più crescere in quelli che sono gli uffici di pastorale ordinaria uno sguardo, una sensibilità Tra l'altro è stato organizzato e sarà forse l'11 dicembre un incontro importante che coinvolge il servizio per la pastorale familiare Certo, anche col servizio per la famiglia basta ricordare lo scorso anno abbiamo organizzato il convegno diocesano famiglia di famiglie e quest'anno vogliamo riprendere questo tema perché ho l'occasione per ribadire che la nostra attenzione nei confronti delle persone con disabilità non sia contenta di guardare le persone con disabilità ma di guardare il loro contesto familiare perché lo sanno benissimo le famiglie molto meglio di noi quando improvvisamente piomba una disabilità nella famiglia è il progetto di vita della famiglia che viene sconvolto e la comunità è chiamata a essere vicino proprio a queste famiglie che da un momento all'altro si devono totalmente ripensare non nei loro sogni, come dire, di una certa importanza ma nella loro quotidianità che è quella poi che viviamo tutti Ascoltiamo un momento l'Arcivescovo che partecipando al convegno della CEI che si è svolto a Milano proprio sui temi della disabilità Aula Magna Gremita dell'Università Cattolica dice questo Ascoltiamolo Di che cosa manca la comunità cristiana se le persone con disabilità non vi fanno parte o sono ostacolate a partecipare si tratta di un tema non solo di giustizia del diritto di tutti i battezzati a essere pietre vive della comunità cristiana ma si tratta della consapevolezza che una comunità che esclude qualcuno è una comunità più povera Ecco, se dovesse dire che cos'è che manca che quindi implica una sfida magari a breve termine qualcosa su cui bisogna insistere un tema sul quale sensibilizzare di più Sicuramente c'è ancora molta paura ma non tanto paura delle persone con disabilità paura perché ci troviamo davanti a delle forme di diversità a cui non siamo abituati e talvolta la paura nasce anche da buone intenzioni la preoccupazione di non sapere come rapportarsi la paura magari di fare qualcosa che non va bene la paura di fare magari del male ma soprattutto la cosa che deve maturare sempre di più e dobbiamo sempre ripartire da lì è maturare uno sguardo che veda i ragazzi le persone con disabilità anzitutto come persone cioè per cui guardare anzitutto questo invece lo sguardo è sempre abituato purtroppo a vedere quello che non c'è quello che manca i limiti e ovviamente davanti a quello che non conosciamo anche noi avvertiamo subito una incapacità di non saper cosa fare di non saper gestire la situazione e sappiamo bene che rapportarsi certo e sappiamo che quando si perde un po' il controllo della situazione questo ci manda un po' in tilt però vedo che tutto il cammino che stiamo facendo e lo dico proprio perché ormai stiamo sempre di più andando sul territorio incontrando i catechisti incontrando sacerdoti le comunità educanti anche perché un dato che emerge ed è sotto gli occhi di tutti la presenza di ragazzi con disabilità ma mi verrebbe dire ragazzi anche con delle fragilità anche con delle fatiche che mettono veramente a dura prova anche nei nostri contesti cristiani nei contesti oratoriani stanno aumentando stanno arrivando tra l'altro a proposito di sensibilizzazione ricordiamo che le maggiori celebrazioni in Duomo vengono anche proposte in video con un interprete nel linguaggio dei segni certo e questo è scusate il calabù ma questo è un segno importante poi c'è una messa per le persone non udenti c'è sempre Santa Marina anche per quanto riguarda la pastorale delle persone sorde ecco stiamo proprio vedendo le immagini di una messa con l'arcivetto il gesto tipico di saluto delle persone assolutamente anche perché magari colgo anche l'occasione per dare questo annuncio a distanza di 5 anni da quando ci fu un incontro con le persone sorde al centro Asteria ed eravamo prima appunto dell'emergenza Covid a distanza di 5 anni a gennaio il 26 gennaio ci sarà un incontro dell'arcivescovo con le persone sorde per come dire fare un po' il punto da 5 anni fa a questa parte cosa è successo e ci sono abbiamo messo in atto appunto tante attenzioni nei confronti delle persone sorde ma mi permetto anche di dire questa cosa anche per sfatare sempre un po' l'idea che per ogni categoria di persone ci sono degli strumenti apposta per loro ecco la lingua LIS e anche di più la sottotitolazione ormai sono degli ausili che garantiscono l'accessibilità non solamente alle persone sorde ma potremmo dire a tutte quelle persone che hanno disabilità comunicative faccio un esempio tipico la sottotitolazione può essere utile anche per tante persone anziane che si lamentano molte volte dell'impianto microfonico delle proprie chiese che non funziona correttamente avere una sottotitolazione aiuta anche loro che non sono persone sorde sono persone che fanno un po' difficoltà ecco bisogna un po' sfatare questo aspetto del compartimento stagno questo lo facciamo per questa categoria tra l'altro i cammini di formazione che vengono proposti dalla consulta diceva Don Mauro prima tante collaborazioni devo dire in una sinergia molto significativa con Caritas Ambrosiana con la fondazione degli oratori milanesi con il centro sportivo italiano il CSI centro ambrosiano dicevo questi incontri questi cammini di formazione hanno un titolo che dice tutto come lievito nella pasta certo ah beh questa è la nostra immagine potremmo dire che è la nostra icona biblica come consulta perché perché sappiamo bene che questo processo di sensibilizzazione come ogni forma di sensibilizzazione è un processo molto lento no? come il lievito nella pasta ma è inesorabile io continuo a dire che ormai abbiamo avviato un processo che sarà inesorabile secondo appunto la legge del altri seminano altri mietano sicuramente questo noi stiamo seminando perché i frutti verranno verranno dopo di noi sicuramente però è anche un'immagine bella perché quando mi chiedono qual è il più grande desiderio della consulta io dico sempre è quella di sparire il prima possibile perché se la consulta muore vuol dire che ha risolti problemi ecco i nostri uffici la nostra pastorale ordinaria avrà acquisito come dire già in se stessa uno sguardo come dire e questo probabilmente è anche il sogno del Don Torcisio Bover per quanto riguarda il servizio regionale della tutela dei minori se scompare è perché si ha una tutela a tutto tondo 360 gravi e non si pone più il problema questo certo saranno traguardi molto lontani giustamente hai detto bene però per esempio anche il convegno della CEI che vi è stato nello scorso aprile ha dato il segno un'aula piena interessata attenta stiamo vedendo le immagini ti vedo lì sul palco io ero presente per appunto produrre un servizio dice molto che aumenta la coscienza civile perché questa è la vera partita da vincere se rimettiamo al centro la persona anche disabile siamo in grado di andare avanti se continuiamo ad alzare steccati non riusciamo assolutamente per esempio la questione delle barriere architettoniche non è una questione da poco certo sì sì non è da dare non è un aspetto che è totalmente scomparso questo assolutamente poi sappiamo che oltre alle barriere architettoniche ci sono quelle barriere mentali che anche quelle sono belle resistenti ma cerchiamo di crescere tutti insieme bisogna iniziare dai ragazzi ricordo la piattaforma ora mi formo della FOM che è un ausilio importante la disabilità è di chi guarda fra l'altro siete bravissimi Don Stefano Guidi che è direttore della FOM tu e altri a dare dei titoli magnifici a queste iniziative quindi grazie davvero per tutto quello che fate e allora in vista del 3 dicembre e per il 3 dicembre che è una giornata internazionale ma che vogliamo vivere nel concreto giusto non solo come una giornata sulla tanta assolutamente Don Mauro Santoro ci ha raccontato cosa fa la consulta di Ocesana comunità cristiana e disabilità tra l'altro la Civescovo è molto attento a questi temi certo e infatti un altro annuncio che voglio dare in occasione di questa giornata a partire da sabato 2 dicembre verrà postato sul nostro portale della Diocesi di Milano un video messaggio che l'Arcivescovo ha voluto fare proprio in occasione della giornata del 3 dicembre per cui invito anche tutti a vederlo ad ascoltarlo e invito anche le comunità a diffonderlo a farlo anche vedere magari in occasione del 3 dicembre perché come sempre come abbiamo ascoltato anche poco prima l'Arcivescovo su questo tema che è attento e dobbiamo dire molto attento come è attento su tantissime altre cose utilizza sempre poche parole ma sono poche parole incisive e chiare che uno se le ricorda benissimo e lo ringrazio grazie Don Mauro Santoro responsabile della consulta di Ocesana comunità cristiana e disabilità grazie a voi grazie adesso noi ci lasciammo ancora per un momento per poco ma torniamo con uno specialino all'interno della puntata e quindi come dico sempre restate con noi ben ritrovati nei nostri studi da cui usciamo subito virtualmente per andare a casa Betania di Seveso perché si è svolta una celebrazione importante per la chiusura della fase di Ocesana del processo di beatificazione di fratellettore Boschini per tutti fratellettore che fratellettore Boschini per tutti ancora semplicemente fratellettore a quasi 20 anni dalla morte sia stato un uomo speciale è noto e altrettanto lo è la fama popolare di santità che lo circonda e che ha trovato un ulteriore conferma ufficiale con la chiusura in tempi definiti molto rapidi della fase di Ocesana della sua causa di beatificazione e canonizzazione che si era aperta il 19 dicembre 2017 dopo nemmeno 6 anni e giunta infatti al termine l'inchiesta di Ocesana sulla vita di questo straordinario gigante della carità una pagina di Vangelo Vivente come lo ha chiamato l'arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini presiedendo la solenne celebrazione di chiusura svoltasi presso casa Betania delle Beatitudini di Seveso presenti tanti ospiti volontari amici dell'opera portata oggi avanti da tre consacrate la centesima e ultima sessione del processo ambrosiano ha visto accanto al presule Monsignor Regno Apeciti delegato arcivescovile per la causa stessa e responsabile del servizio diocesano per le case dei santi Don Marco Gianola promotore di giustizia Don Simone Lucca notaio attuario pubblico Don Walter Vinci postulatore generale dei religiosi camigliani e portitore come si chiama colui che porta fisicamente in Vaticano gli atti del processo al di Castero dei Santi in prima fila anche autorità civili come si legge il Vangelo questo l'interrogativo con cui il Vescovo Mario ha dato abbio alla sua riflessione dopo la lettura della parabola del buon samaritano io credo che fratellettore è pagina di Vangelo che ci dice è così che si può vivere questa pagina del buon samaritano una seconda indicazione è legata dall'arcivescovo proprio la singolarità di fratellettore quello che è caratteristico di fratellettore è non che fosse un po' speciale ma che ha reso speciali quelli che l'hanno incontrato cioè essendo così unico ha reso però possibile imitarlo infine un terzo pensiero fratellettore è diventato per molti un ricordo per molti è diventato un simbolo ma è come se dice ecco adesso non c'è più ma dove è andato fratellettore ecco è andato dove è sempre stato cioè nel centro della vita nel cuore di Dio da qui la conclusione la consegna se noi anche noi andiamo al centro cioè andiamo incontro al Signore lì viviamo la comunione dei Santi dove i nostri cari i nostri Santi quelli ordinari e quelli straordinari sono vivi e ci abbracciano e ci incoraggiano poi il secondo momento della celebrazione è più puramente giuridico con le letture da parte del notaio dei verbali dell'ultima sessione e dello strumento di chiusura le firme la chiusura a ceralac che sigilli dei plichi che contengono i documenti prodotti in triplice coppia infine a suggello della celebrazione la preghiera corale davanti alla tomba di fratellettore e un lungo applauso il miracolo è tutta la vita di fratellettore una meraviglia di amore verso gli altri verso ognuno ha lasciato il segno in ognuno di noi che l'ha conosciuto soprattutto in chi non l'ha conosciuto perché il nostro compito è veramente far conoscere il fratellettore la sua scuola di carità un gigante della carità come diceva Martini siamo tre sorelle credo la dimostrazione di come funziona la provvidenza ecco la provvidenza è legata alla povertà e alla verità noi siamo tre essere tre significa essere povere eppure ce la facciamo perché i nostri dormitori sono pieni i poveri sono accolti i malati sono curati di solito la comunità residenziale fra quelli che scappano quelli che muoiono eccetera sono 40 e poi questa comunità è una comunità d'aiuto che aiuta gli altri per cui i nostri poveri stessi fanno da custodi nei nostri dormitori i nostri dormitori sono strapieni è ovvio perché la situazione la sapete meglio di me e di quante persone pensiamo 150 per sera 200 per sera accogliamo nei dormitori fra uomini e donne più uomini bene avete sentito la testimonianza di sorella Teresa a cui fratele Ettore ha affidato la sua opera adesso vogliamo ascoltare brevemente il Papa che ci parla proprio delle persone con disabilità alcuni 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 sufren un rechazzo basato nella ignoranza basato nei pregiudizi che lo convierte in marginali le persone le persone che hanno hanno di appogliare le progetti con l'accesso a l'educazione al lavoro e i espacios dove si esprezono la creatività. Hacen falta programmi, iniciativasi che favorezano la inclusione. E soprattutto, facen falta corzoni grandi che vogliono accompagnare. E è cambiare un po' la nostra mentalità per abreremo a le apportazioni e abreremo a i talenti delle persone con capacità diverse. Tanto nella società come dentro della vita ecclesiale. E così, creare una parroquia plenamente accesibile non significa solo eliminare la barrera fisica, ma anche assumere che abbiamo di lasciare di parlare di loro e passare a parlare di noi. Oremo per che le persone con discapacità stanno nel centro dell'attenzione della società e che le instituzioni promuovano programmi di inclusione che potenze la sua participazione activa. Magnifiche le parole del Papa. C'è bisogno davvero di cuori grandi e questo era il nostro piccolo contributo per la giornata del 3 dicembre. È tutto per questa puntata. Io vi ricordo, come sempre, l'appuntamento delle 20.32 con l'Arcivescovo nel cammino di Avvento trasmesso ovviamente da Telenova, poi sul portale della Diocesi di Milano, sulla app sempre di Telenova. Insomma, di tutto, di più, proprio per aprire la nostra finestra sulla Diocesi, ma anche, permettetemi come avete sentito, un po' sulla Chiesa Universale. E quindi, grazie per averci seguito. Arrivederci. Ciao.